Gentili telespettatori, buona giornata. In un'intervista oggi di Matteo Salvini sul Corriere della Sera il giornalista gli fa delle domande ben specifiche ma lui spesso le evade, cioè risponde con un'altra cosa che non c'entra niente. Le domande sono assolutamente centrate. Lui parla, il giornalista, chiedendo a Salvini ma Draghi sapeva delle vostre intenzioni di votare contro il governo? Lui dice tutti sapevano tutto. Ma il giornalista segue dicendo ma i vostri colpi di scena, il continuo cambio di opinione rischia di disorientare più che i politici i vostri elettori. Lui dice ma no, non è vero e poi parla di altre cose, quindi non risponde. Gli chiede proprio esplicitamente ma dicono che senza non ci giriamo intorno, lei fa governo e opposizione e lui risponde noi abbiamo migliorato il Green Pass. Anche qui una risposta che non c'entra niente con la domanda. La domanda è segretario che storia è questa? È al governo o all'opposizione? E lui parla di altre cose. L'altra domanda successiva. Lo accusano segretario, continua il giornalista insistendo, lo accusano di tenere il piede in due scarpe. La parola più ripetuta ormai è ambiguità. Ma lui dice ma quale ambiguità? E parla di che sono state vaccinate 40 milioni di persone. Dà delle risposte che non c'entrano niente con la domanda, cioè evade alla risposta. Forse Matteo Salvini dovrebbe fermarsi a riflettere che il giornalista gli sta dicendo quello che dicono tutti. Ambiguità, colpi di scena, elettorato disorientato. Lei cosa fa? Opposizione o governo? Tutte queste domande sono quelle che vorrebbero fargli tutti. Come dire ma nessuno gli ha mai detto queste cose. Non è arrivato a capire che sta perdendo l'elettorato proprio per questo suo comportamento. Ma lui non risponde. Nel proseguo dell'intervista, dopo l'ultima domanda che abbiamo visto nel video precedente, ma lei disorienta gli elettori? Ma no? E parla di altre cose? Salvini continua. Leggo che il rave di Viterbo non sia stato così imprevisto e che addirittura i camper in arrivo sarebbero stati scortati dalle forze dell'ordine. Quello sì che non sarebbe facile da capire. Polizie e carabinieri che non impediscono e anzi addirittura scortano una colonna di coloro che sono andati a immergersi per qualche giorno nella totale illegalità, in un terreno poi assolutamente privato. dice come la polizia e i carabinieri che scortano queste persone per arrivare in un terreno privato? Su questo noi presenteremo immediatamente un'interrogazione e se fosse confermato questo si rischierebbe le dimissioni immediate del ministro dell'interno, un minuto dopo la conferma che sia avvenuto così. Beh, a questo punto bisogna proporre una mozione di sfiducia. Ma come? Hanno fatto tante storie con Durigon, per quello che ha detto al Parco di Latina, che l'hanno fatto dimettere. Qui le cose con la Lamorgese non hanno paragone. Qui stiamo parlando di sicurezza nazionale, di un ministro che non c'è, che deve riferire a un Draghi che poi non agisce. Qui, altro che Durigon, qui bisogna assolutamente destituire questo ministro con una mozione di sfiducia che dovrebbe il Parlamento intero votarlo, intero, o dovrebbe essere Draghi a sostituirla immediatamente. Non ha nessun senso che rimanga lì e non ha nessun senso neanche i tentativi di difesa che fa la sinistra, come se fosse anche questa una questione centrodestra-centrosinistra. Il centrodestra dice sostituirla, allora il centrosinistra dice no, va benissimo. È una bambinata questa. Ma il giornalista torna a chiedere, insomma, Salvini, ma mi dica, ma non è un po' strano ritirare i propri emendamenti per poi votare quelli dell'opposizione? Cioè come? Lei si mette d'accordo con Draghi per ritirare le proposte di modifica, dicendogli stai tranquillo, però poi in aula vota quelli dell'opposizione che sono identici a quelli che voi avete cancellato. Cosa vuol dire? E Salvini dice ma che alla fine noi votiamo tre, quattro emendamenti e abbiamo ritirato i nostri perché in caso contrario avrebbero messo la fiducia e non ci sarebbe stata una discussione che invece io credo importante. Io ve l'ho detto anche ieri, con la discussione sapete che cosa ci potete fare? Niente, niente. Dice abbiamo preso una decisione e poi discutiamo, ma la decisione è già presa. Sinceramente se la decisione è già presa, chi se ne frega della discussione? Uno dice una cosa, l'altro dice io la penso diversamente, però abbiamo già deciso che è così. Quindi la risposta di Salvini, noi abbiamo cancellato i nostri emendamenti e votato quelli di Fratelli Italia per permettere una discussione in aula, anche questa risposta secondo me non ha senso. E il giornalista dice beh, allora Salvini, altre sorprese in vista, come dire, visto che ci sono tutti questi colpi di scena, questi cambi d'idea, ci sono altre sorprese? E Salvini dice, oggi si vota ancora e se accoglieranno altre nostre istanze, pensiamo a temi come la disabilità e provvedimenti per le famiglie in difficoltà, noi andremo a dormire contenti di aver fatto il nostro lavoro. E il giornalista chiede, ma il PD e il suo segretario Letta ritengono che la Lega sia inaffidabile per il governo, hanno torto, e lui risponde che il PD è ormai il partito dell'ipocrisia e da un anno che tengono in ostaggio il Parlamento con le loro leggi che vogliono fare. Poi lei cosa parla? Della candidatura anche di Enrico Letta, dice ma sì, per esempio, per senso estremo di responsabilità noi abbiamo chiesto a un nostro uomo validissimo, Claudio Durigondi, di mettersi per una frase, una frase infelice senza dubbio, ma una frase. Quando a Siena sono spariti miliardi per una gestione che è stata da sempre dello stesso colore, il segretario Letta si candida, veda lei. Per questo i suoi insulti mi scivolano addosso, io lavoro per aiutare famiglie e imprese, lui è quello della patrimoniale e della tassa di successione. Ma attenzione, avete sentito che cosa ha detto? Noi abbiamo chiesto a Durigondi di dimettersi, ma tu non avevi detto che Durigondi l'aveva fatto per la patria? Durigondi diceva, mi sono dimesso per la patria, per il paese, e tu mi dici adesso che abbiamo chiesto a Durigondi di dimettersi? E allora questa qui è un'altra bugia. Come? L'aveva fatto per la patria e adesso dici abbiamo chiesto a Durigondi di dimettersi? Ai 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 ai, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Va bene, al prossimo video. Bye bye. Ciao, ciao.